Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 2 maggio 2024. Nel corso degli ultimi mesi si è assistita a una fitta serie di incontri diplomatici di altissimo livello tra Stati Uniti e Cina, con funzionari del calibro di Janet Yellen e Anthony Blinken recati svariate volte in territorio cinese. Le negoziazioni mirate ufficialmente a stabilire un rapporto di coesistenza tra i due colossi non sembrano tuttavia aver prodotto risultati significativi, al punto che durante l'ultimo vertice il presidente Xi Jinping ha manifestato evidenti segni di irritazione nei confronti delle controparti statunitensi, che hanno intimato la Repubblica Popolare Cinese di allentare la relazione strategica installata con la Federazione Russa e ridimensionare le importazioni di petrolio e gas naturale dall'Iran, dopo che Washington aveva sbloccato l'ennesima trage di aiuti militari a Taiwan. Verso quale scenario ci stiamo orientando? Proviamo a comprenderlo insieme a Davide Martinotti, che è esperto di mondo cinese e gestore del canale YouTube da Zibao. Io Davide ti ringrazio anzitutto. Ciao, grazie, grazie mille per l'invito. Beh Davide, come accennato partirei proprio da questa serie di incontri con specialmente quello di Anthony Blinken che si è recato in Cina, ma le cose non sembrano essere filate esattamente lisce. Xi Jinping si è visto addirittura, c'era una specie di filmato che ho visto, in cui si chiedeva questo quanto rimane qui, nel momento in cui Blinken stava arrivando. Tu come interpreti quello che è accaduto? Sì, è un po' quel balletto che stiamo avendo attorno alla cosiddetta visione di San Francisco, quindi a quel tentativo di costruire una base comune dei rapporti sino statunitensi che è andato in scena a novembre, quando Biden e Xi Jinping si sono incontrati a San Francisco e dal quale sì sono emersi dei segnali distensivi, alcuni dei quali tutto sommato sono positivi o comunque sono anche percepiti, indicati come positivi anche dalla leadership cinese e anche da quella americana, però forse questo effetto positivo si ha non tanto nei punti strategici quanto più su questioni più tattiche che riguardano anche il consenso interno che i vari leader possono avere, mi riferisco ad esempio alla questione del fentanyl, su questo è incominciato un gruppo congiunto di indagine che sta effettivamente portando dei risultati nel rintracciare i componenti di questa droga che crea dei problemi forti negli Stati Uniti e alcuni dei precursori del fentanyl arrivano dall'industria, dal contrabbando cinese a varie tappe passando da cartelli messicani o da altri paesi arrivano negli Stati Uniti, su questo c'è un riconoscimento reciproco di un certo efficacia dello spirito di San Francisco, però dall'altro lato ecco che lo spirito di San Francisco viene negato da vari temi che si sono surriscaldati negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, possiamo arrivare a quello che dicevi tu sulla visita di Blinken e della Yellen, ma oltre a quello si può anche così molto rapidamente accennare a questioni relative a nuove indagini su acciaio e alluminio incominciate negli Stati Uniti che potrebbero portare ad un incremento dei dazi e delle tariffe che Biden viene eredita da Trump, da quella guerra economico-commerciale, allo stesso modo è stata avviata la sezione 301 sul settore navale che è una specifica indagine che consente, che concede al Presidente degli Stati Uniti dei poteri di rappresaglia economica piuttosto forti e il settore navale è un altro settore importante e trainante dell'export cinese, è cresciuto parecchio negli ultimi anni, tanto che ad oggi la Cina produce più navi di tutto il resto del mondo messo insieme e l'idea è quella di sanzionare in qualche modo le navi prodotte in Cina che attraccano importi statunitensi per ricavare del denaro da investire poi nell'industria navale statunitense che invece è piuttosto ridotta nel settore civile. Poi oltre a quello continua tutta la questione dei blocchi tecnologici, quindi la questione dei chip, delle aziende cinesi inserite nelle entity liste statunitensi e poi così arriviamo a ciò che dicevi, quindi la visita della Jelle nella visita di Blinken, che sono sostanzialmente state due visite speculari con le quali questi vertici statunitensi hanno portato alla Cina una sorta di ultimatum potremmo dire, che riguarda ciò che accennavi, quindi da un lato l'idea che la Cina dovrebbe interrompere dei rapporti economici e commerciali con la Russia che non riguardano la fornitura diretta di armi, anzi Blinken stesso ha specificato che la Cina non è che fornisce armi, ma fornisce i componenti dual use, quelli che possono essere utilizzati sia dall'industria civile e sia dall'industria militare e per l'accusa statunitense il motivo per cui la Russia sta in qualche modo sostenendo la sua industria bellica e quindi sta penetrando in Ucraina con tutte le conseguenze che vediamo davanti ai nostri occhi, questo dipende esclusivamente da questo commercio sino-russo e da qui deriva questa intimazione a interrompere questi legami, ma stiamo parlando sostanzialmente di legami leciti e legami che riguardano due paesi, quindi il fatto che un paese terzo si voglia inserire come Cuneo, non stiamo parlando di sanzioni ONU, quelle che coinvolgono la Russia o che coinvolgono in questo settore specifico i componenti dual use, stiamo parlando di sanzioni unilaterali che alcuni paesi hanno deciso di mettere in atto, ma altri no e quindi non si capisce a che titolo ti puoi inserire nelle relazioni tra due paesi indipendenti. E secondariamente arriviamo invece a quell'altra accusa che fa un po' da colonna portante al suo riscaldamento dei rapporti tra Cina e Stati Uniti, cioè l'accusa di sovraccapacità e ciò che gli Stati Uniti dicono è che il settore industriale cinese volontariamente, più o meno volontariamente ha portato le industrie ad una situazione di sovraccapacità e che potrebbe portare ad una crisi economica mondiale, perché in qualche modo le industrie producono, le industrie cinesi producono più di quanto la domanda, non solo cinese, ma la domanda globale possa in qualche modo sostenere, quindi callo dei prezzi, quindi insomma vari problemi. Chiaramente la Cina nega queste accuse, ma dall'altro lato anche lato statunitense ci sono vari inchieste giornalistiche che cercando di far luce su questo tema della sovraccapacità arrivano a conclusioni piuttosto discordanti e mi riferisco ad un articolo di Bloomberg ad esempio uscito sostanzialmente in corrispondenza con la visita della Yellen a Pechino e secondo questo articolo misurando la capacità dell'industria cinese su una scala da 0 a 100 la colloca più o meno intorno a 76 e più questo valore è basso in percentuale evidentemente, più è basso più vuol dire che c'è sovraccapacità, perché più vuol dire che le industrie sono inattive perché la domanda non riesce a sostenere la produzione, mentre più è alto più vuol dire che c'è un surriscaldamento dell'industria dovuto a un tentativo di far fronte ad una domanda molto forte. Ma 76 invece è un valore piuttosto positivo, gli Stati Uniti sono 78 e il valore ideale è intorno all'80, ma soprattutto si sta avendo una crescita diciamo di questo valore che sta sempre più tendendo verso l'80 stando in Cina, è un valore che è cresciuto in percentuale rispetto ad esempio al 2016 dove era più basso ed è un momento in cui la Cina ha incominciato a varare delle politiche appunto sulla sovraccapacità industriale, quindi in realtà la Cina già ha politiche in riferimento a questo tema, politiche che stanno dando i loro risultati e che stanno in realtà portando questo valore a dei valori assolutamente positivi almeno per come vengono considerati in Cina. L'industria automobilistica, una delle principali accuse riguarda proprio l'industria automobilistica cinese, anche qua Bloomberg fa vedere come per questa specifica industria questo valore è proprio intorno all'80, quindi ancora di più di quel 76 lì, mentre a tirare in basso questo valore sono più che altro quelle industrie cinesi legate al settore immobiliare, questo sappiamo che è un settore in crisi e quindi sappiamo che qui la domanda non sta dietro alla produzione perché la domanda di nuove case è ridotta per tutti i problemi ereditati dal mercato immobiliare. Poi esistono nello specifico altri settori in cui davvero si può parlare di sovraccapacità non solo cinese ma anche globale, pensiamo ai semiconduttori, d'altra parte sono aumentati parecchio gli investimenti in questa industria negli ultimi anni, triplicando gli investimenti a livello globale rispetto a un decennio fa, ma questo dipende da questa guerra che c'è stata sui chip e che ha portato alcuni paesi come appunto la Cina a investire parecchio per rinforzare la propria industria interna e sì questo può portare in effetti ad una sovraccapacità nel futuro perché è chiaro che abbiamo la duplicazione di vari apparati industriali, quindi potrebbe esserci così come questa rivoluzione che si sta avendo nelle catene di rifornimento delle merci, il fatto che paesi come il Vietnam, come il Messico, come l'India anche in qualche modo siano emersi o stiano emergendo come una sorta di interfaccia tra Cina e Stati Uniti per evitare questo collegamento diretto ma per avere dei paesi terzi che fanno da ponte e questo è già valido per Vietnam e per il Messico, però anche questo è avvenuto su spinte politiche, è avvenuto in un periodo di tempo piuttosto breve e ha portato a una duplicazione degli apparati industriali, quindi sì anche questo può contribuire ad una certa sovraccapacità o i pannelli solari, anche su questo settore in Cina c'è sovraccapacità ma ancora nuovamente questo settore è al centro dello scontro tra la Cina e Occidente, quindi più questo scontro si intensifica più in qualche modo sì abbiamo un problema della sovraccapacità, però al momento lo si vede soprattutto in quei settori che fanno da scontro, quindi arrivare in Cina con nuove accuse che vanno ad alimentare lo scontro, più che ridurre il tema della sovraccapacità fa presagire la possibilità che questo tema vada ad aggravarsi nel futuro. Peraltro mi sembra che le accuse statunitensi siano oltre che ingiuriose perché obiettivamente se dovessero individuare una ragione del successo cinese gli Stati Uniti dovrebbero anche guardarsi parecchio allo specchio perché tutti i trasferimenti delle industrie tecnologici che hanno finché la Cina era ritenuta funzionale, la divisione internazionale del lavoro che loro avevano stabilito, gli statunitensi avevano stabilito, tutto filava liscio, poi quando hanno visto che i cinesi non si occupano soltanto di fare magliette ma cominciano a diventare competitive, anzi scalzano le aziende statunitensi da tutti i settori di punta, ecco che sì, si crea un problema e quindi mi pare che la lettura sia un po' questa. Mi parte una domanda più focalizzata proprio sulla struttura interna della Cina, noi abbiamo visto che nel corso degli ultimi decenni la Cina ha chiaramente inanellato tassi di crescita letteralmente incredibili, non si è mai visto qualcosa del genere nel corso della storia ma questa crescita così impetuosa è stata accompagnata da una serie di aggiustamenti nel corso del tempo, quindi naturalmente ci sono creati degli squilibri per esempio tra le coste e le zone più interne ma soprattutto inizialmente la crescita era trainata dalle esportazioni per così dire selvagge e da un settore immobiliare che era molto sviluppato, noi abbiamo visto che invece nel corso degli ultimi tempi, tra l'altro in Cina ci sono degli interessi connessi tra il settore immobiliare, le amministrazioni locali eccetera, si era creati anche circuiti corruttivi, sembra che Xi Jinping abbia messo pesantemente mano a questo settore e gli stia un po' per così dire tagliando le unghie, tu che impressione hai? Sì sicuramente, questo è qualcosa che abbiamo visto accadere direi nel mezzo della pandemia quindi nel 2021 quando appunto per quanto riguarda il settore immobiliare la Cina ha varato quelle che poi sono passate alla storia come le tre linee rosse, cioè tre parametri che hanno ridotto quello che era l'accesso al credito per sviluppatori immobiliari non sani, Evergrande comincia lì, una sorta di crisi provocata da delle politiche che hanno impedito questa azienda che non rispettava dei parametri giudicati indispensabili per poter chiedere nuovi soldi alle banche sostanzialmente, non rispettando questi parametri ha avuto problemi di accesso al credito dal quale poi in cascata è emersa la questione che poi è arrivata su estremo anche recentemente con i fatti di Evergrande, ma non ha toccato solo Evergrande ha toccato anche sviluppatori più importanti, Country Garden, quello era considerato uno sviluppatore più sano ma in realtà così tanto sano evidentemente non era perché nonostante rispettasse in qualche modo meglio di Evergrande questi parametri però abbiamo visto nel corso del tempo un po' declinare anche lui e accumulare problemi nel corso degli ultimi anni, poi la Cina ha corretto queste linee rosse cercando un po' di ridurre la severità dei parametri ma quello che è accaduto è che alcune aziende di fatto non sono sopravvissute, Evergrande di fatto in default nonostante formalmente in qualche modo ancora sopravviva. C'è l'idea che quel modello di sviluppo che si basava da un lato sulle esportazioni, dall'altro lato sul settore immobiliare, ma in generale potremmo dire che il modello di sviluppo cinese si basasse su investimenti, una forte presenza di investimenti che poi generavano esportazioni, ecco in fondo le esportazioni non sono in sé il modello di sviluppo, quanto più l'effetto di quello che era un modello di sviluppo che si basava su degli investimenti che dovevano essere investimenti produttivi, poi ciò che è accaduto nel corso del tempo è che una saturazione di questa politica, di questo modello ha portato questi investimenti a essere improduttivi, allora ecco che adesso la Cina sta correggendo il target degli investimenti in quei settori invece considerati più produttivi per il futuro e allora abbiamo tutta la questione della nuova energia, delle nuove tecnologie, delle nuove forze produttive, ecco questo è forse lo slogan emerso recentemente come cardine centrale della politica industriale cinese, cioè sviluppiamo quelle che in senso marxista anche vengono definite le nuove forze produttive del paese e che devono, è un po' l'idea di scatenare una nuova rivoluzione industriale basandosi su intelligenza artificiale, basandosi sui dati, basandosi sul settore elettrico e su tutto ciò di cui la Cina è in qualche modo diventata anche leader nel corso dell'ultimo decennio, non a caso con le due sessioni di quest'anno c'è l'appuntamento politico più importante che si ha annualmente in Cina, proprio in quell'occasione sono stati quintuplicati, la crescita anno su anno degli investimenti nella ricerca e sviluppo è stata quintuplicata, nel senso che se nel 2023 la ricerca e sviluppo era aumentata, gli investimenti nella ricerca e sviluppo erano aumentati del 2%, quest'anno sono invece aumentati di più del 10% con punte anche del 13-14% per la ricerca di base, quindi la Cina sta puntando su questo, quindi investimenti continui nell'apparato industriale perché sono considerati gli investimenti più produttivi, quindi sì in qualche modo possiamo vedere un tentativo di sostituire quei pilastri nell'investimento del mercato immobiliare e riorientarli in altri settori e allo stesso modo anche l'export verso l'Occidente, anche questo chiaramente un pilastro della Cina del passato, sta lentamente venendo sostituito con le esportazioni verso i paesi della Belt and Road, quindi della nuova via della seta, che oltre ad essere un framework per la costruzione di infrastrutture, tutto ciò che abbiamo visto, ma oltre a questo è anche un framework nel quale la Cina inserisce la firma di accordi di libero scambio, quindi si inserisce anche nel tentativo di modellare l'ordine mondiale di cui spesso parliamo, creando una struttura in qualche modo parallela al WTO, ma centrata su Pechino o comunque decentrata rispetto all'Occidente, col quale la Cina sostituisce quell'altro pilastro, cioè le esportazioni verso l'Occidente con esportazioni verso il Sud globale, se vogliamo chiamarlo così. Specialmente alle nostre latitudini si tende a fare un ragionamento, la Cina ha preso dall'Occidente questa propensione a sviluppare tecnologia, tantissimo, quindi investimenti molto cospicui che comunque hanno un effetto, mettere a punto tutte queste tecnologie rivoluziona anche il mercato del lavoro naturalmente. Quindi si aprono dei problemi, per esempio come assorbire tutta la manodopera disponibile, perché noi sappiamo che i processi di automazione comportano per forza di cose un restringimento del fabbisogno di manodopera, una più elevata qualificazione della forza lavoro e una riduzione numerica delle persone occupabili. La Cina ha dei problemi demografici, lo sappiamo, la politica del figlio unico eccetera può portare un rovesciamento delle piramidi, ma si è parlato molto per esempio anche della disoccupazione giovanile che è un problema e naturalmente questo processo, questa nuova rivoluzione industriale che Pechino intende promuovere potrebbe avere degli effetti anche su questo ambito. Tu cosa ne pensi? Sì, è molto difficile decodificare questo aspetto, anche perché qui entriamo in quella che è la dialettica tra i governi centrali e il governo locale, con il governo centrale che è chiaramente quello che dà delle linee guida, a volte anche ambizioso, che in qualche modo cercano di riassumere quelli che sono gli interessi più importanti della nazione, ma poi abbiamo i governi invece locali che sono quelli che amministrano il territorio e che poi devono implementare queste politiche, quindi la dialettica tra queste due entità, che sono sempre entità che hanno un loro grado di autonomia, anche i governi locali sono l'anticamera per poter emergere e salire al potere dei governi centrali, quindi stiamo parlando di unità politiche molto importanti nella Cina e in questo bilanciamento quello che abbiamo visto negli ultimi anni è da un lato sicuramente il governo centrale andare verso un'accelerazione di questi discorsi, mentre dall'altro lato i governi locali a volte hanno provato a decelerare un pochettino, mi vengono in mente alcuni casi di porti, uno dei settori in cui c'è molta automazione riguardano appunto il settore dei porti e lì in quel caso abbiamo visto come in certi episodi c'è stato appunto un rallentamento per evitare di andare a portare troppa automazione in quel settore a discapito quindi del lavoro, però direi che le linee guida che emergono danno un po' l'idea che questa cosa qui, cioè automazione, tecnologia, nuove forze produttive siano in qualche modo un interesse strategico, quindi c'è un riconoscimento del fatto che questo può portare a disoccupazione, al momento la disoccupazione in Cina è piuttosto controllata perché al di là della questione della disoccupazione giovanile, che però quella dipende un po' da una dialettica invece legata tra le università e la società, nel senso che soprattutto nel passato le università sono state un po' un parcheggio per giovani in attesa di entrare nel mondo del lavoro, detta brutalmente una sorta di parcheggio per disoccupati potremmo anche dire e con dei giovani che poi quando sono usciti da lì volevano però inserirsi nella società ad un livello adatto rispetto a quelle che è la loro competenza, il loro curriculum di studio, ma soprattutto negli ultimi anni hanno trovato un forte muro rispetto alla possibilità di inserirsi al livello che volevano e questo ha rallentato gli affermati da buttarsi subito nel mondo del lavoro, quindi la disoccupazione giovanile non credo sia tanto legata alla questione dell'automazione, ma quanto più legata è stata questa questione di istruzione e università e società, però tolta la disoccupazione giovanile, la disoccupazione globale nelle città cinesi mi pare sia intorno al 4%, quindi non è un livello così alto, mentre quella giovanile è stata superiore al 20%, se non ricordo male, stando agli ultimi dati dell'anno scorso almeno. Però per tornare a questa dialettica tra disoccupazione e automazione, sì certo chiaramente l'automazione può portare a disoccupazione, ma credo che l'idea di base al momento sia questa, cioè la tecnologia essendo al centro di uno scontro con gli Stati Uniti è qualcosa che dobbiamo sviluppare perché è un settore di sicurezza nazionale in qualche modo e se questo produrrà disoccupazione allora poi dovremmo occuparci della disoccupazione, ma questo non può andare a discapito dello sviluppo della tecnica che al momento è considerato centrale. Dal mio punto di vista una sfida molto importante che la Cina deve raccogliere è quella di sviluppare un mercato interno propriamente detto, noi sappiamo che la Cina per ovvie ragioni per esempio ha avuto elevatissimi livelli di risparmio privato perché per superire la mancanza per esempio di una sanità pubblica che per molto tempo adesso si è lavorato molto in questo ambito negli ultimi anni, però diciamo che convincere, promuovere insomma un'alterazione, quasi un sovvertimento di atteggiamenti consolidati, quelli per esempio la propensione al risparmio e mobilitare il risparmio privato per creare un mercato interno che ricentri l'economia, la renda meno funzionale alle esportazioni e più rivolta verso il mercato interno, è un obiettivo che la Cina ha anche più volte, la leadership cinese ha più volte sottolineato. Com'è lo stato dell'arte dal tuo punto di vista? Ma sì, direi che questo ambito in qualche modo lo possiamo legare alla questione di cui parlavamo prima, cioè investimenti nelle infrastrutture e nel settore immobiliare, perché questi investimenti che hanno concesso agli sviluppatori di crescere e quindi di costruire anche in maniera selvaggia le case in Cina, l'hanno fatto chiedendo come dicevamo credito alle banche, ma le banche hanno dato questo credito anche perché avevano al loro interno i risparmi delle famiglie cinesi, quindi il cinese che risparmia è qualcosa che in qualche modo possiamo inserirlo anche nel modello di sviluppo che la Cina ha avuto negli ultimi anni. Ora è chiaro che andando a colpire quel settore lì così come è accaduto potrebbe liberarsi questo risparmio, questo credito, il patrimonio delle famiglie, potrebbe non essere più diretto a sviluppare il mercato immobiliare o sviluppare infrastrutture nei loro investimenti, ma può essere diretto al consumo interno, stando sempre nel contesto cinese dove comunque questa questione qua, cioè l'aumento e lo stimolo dei consumi interni è una questione di cui si parla da parecchio tempo, almeno da un decennio e si sono ottenuti sì certo dei risultati però se ne sta continuando a parlare, quindi evidentemente vuol dire che i risultati ottenuti ancora non sono sufficienti e le politiche che sono state implementate non sono evidentemente, non sono arrivate al livello cui volevano arrivare, è probabile ed è possibile che la necessità di cambiare il modello economico, il modello di sviluppo ha anche a che fare con questo e quindi con la necessità di andare a sviluppare quello che è il consumo interno. Indubbiamente. Volevo tornare un po' al primo tema che abbiamo toccato, noi vediamo per esempio negli Stati Uniti che cercano di imporre un po' a tutti, parlo continuamente di ordine basato su regole, rule based order, in cosa consiste questo ordine basato su regole? Che sostanzialmente loro vanno ovunque e dicono alla controparte cosa deve fare o cosa non deve fare, un po' più o meno è questo. I cinesi di fronte a tutto questo hanno sempre avuto un atteggiamento, per così dire, sono molto gelosi della propria sovranità, però sono anche in genere molto attenti alla forma, nel senso che da un punto di vista diplomatico misurano molto le parole e le reazioni. Noi vediamo negli ultimi tempi che i cinesi a mio parere sembra che stiano perdendo un po' la pazienza da questo punto di vista e lo si evince da tutta una serie di iniziative. Tu che impressione hai da questo punto di vista? Secondo te peggioreranno ulteriormente le relazioni tra i due paesi? Credo siamo a una sorta di punto di svolta e riallacciandoci con quello che dicevamo all'inizio, se vogliamo leggere quello di Blinken come una sorta di ultimatum e in fondo lo è stato, perché poi il messaggio di Blinken era questo, cioè noi non siamo contro la vostra crescita, non siamo contro la vostra tecnologia o quello che volete, ma dovete in qualche modo trovare un modo di crescere, di commerciare che non vada a danneggiare i nostri interessi e che non vada a danneggiare gli Stati Uniti, che sono un paese che sta cercando di reindustrializzarsi e che quindi ha difficoltà a competere con quello che invece è un gigante tecno-industriale come la Cina. Quindi se gli Stati Uniti quello che dicono è state alle nostre condizioni, voi potete comunque avere un vostro spazio di crescita, è un po' simile a quello che abbiamo visto accadere negli anni Ottanta col Giappone, dove anche lì avevamo allo stesso modo un paese orientale indicato come una minaccia, all'epoca la minaccia era la minaccia giapponese, avevamo i politici statunitensi che distruggevano i prodotti giapponesi in pubblica piazza o avevamo libri che ci parlavano della coming war with Japan, della incombente guerra col Giappone, cosa che poi non è avvenuta evidentemente, ma anche perché il Giappone in qualche modo volendo integrarsi nel G7, avendo ottenuto il suo ingresso nel G7, considerato importante per il Giappone che è un paese che già da più di un secolo cerca di inserirsi in un ordine mondiale a trazione occidentale o comunque che ha cercato di recepire prima della Cina, sicuramente prima anche di molti altri, di recepire quell'idea di ordine mondiale che proveniva dall'Occidente. Entrare nel G7 per il Giappone era un passo molto importante, accettare alcune delle politiche di Washington è stato un passo molto importante o comunque considerato ambizioso per il Giappone, anche se poi ha portato quello che ha portato, cioè il decennio o i vari decenni perduti che il Giappone ha subito. Anche a fronte di quella che è stata l'esperienza giapponese è molto improbabile che la Cina accetti di crescere sì ma solo alle condizioni di Washington, tanto che all'ultimato di Blinken i cinesi hanno risposto con quella metafora della camicia del primo bottone per come è stata raccontata sia dai media cinesi e sia dai vertici politici cinesi, cioè l'idea di base è che le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono a un nuovo momento di avvio, o almeno è così che le intendono i cinesi, cioè in questi decenni ci sono stati dei cambiamenti strutturali nel ruolo che questi due paesi hanno nel mondo e se questo è già un fatto, ciò che ancora non è accaduto è che le relazioni bilaterali e diplomatiche sono andate a ricepire questo fatto, manca una ricezione da parte della politica internazionale del cambiamento avvenuto nel ruolo di questi due paesi, quindi è un po' come l'idea che abbiamo appena indossato una camicia e dobbiamo abbottonarla, ma se sbagliamo a mettere il primo bottone allora sbaglieremo anche ad allacciare tutti quanti gli altri, quindi le relazioni tra di noi devono essere in qualche modo riformulate anche alla luce del nuovo ruolo che i paesi hanno nel mondo e non dobbiamo sbagliare adesso, perché se sbagliamo adesso a cascata sbaglieremo anche in tutti i vari ambiti, quindi entrambi i paesi hanno espresso questa idea qua, cioè che si è a un momento in cui le cose potrebbero andare male, potrebbero esserci gravi conseguenze, per Blinken le gravi conseguenze si hanno se la Cina non accetta di interrompere le sue relazioni commerciali con la Russia o se non accetta di implementare delle politiche industriali che vadano bene a Washington e se non lo fa le cose vanno male, ma anche Pechino dice lo stesso, cioè se voi americani non capite che le relazioni tra di noi sono arrivate a un momento che vanno ripensate, se non capite questo allora le cose potrebbero andare male, quindi se la domanda è ma le cose potrebbero andare male, beh sì, le cose potrebbero andare male e questo lo dicono sia i cinesi che gli americani. C'è un altro paese che per un certo periodo ha cercato di integrarsi con l'Occidente che è indubbiamente la Russia, sotto Vladimir Putin nella sua prima fase ha cercato in vari modi di un accomodamento diciamo e abbiamo visto che questo è un po' uno dei, diciamo degli improveri che un professore cinese Feng Jujun, Jujun che non so come si pronunci, che è un eminente russologo dell'Università di Pechino ha rilasciato in questa intervista l'Economist che è un po' stupefacente perché dice delle cose diciamo molto controcorrente in particolare perché provengono dalla Cina, cioè in realtà lui dice che in realtà questi due paesi russi e cina non sono poi così allineati come sembrerebbe, che Putin è tutto sommato un politico occidentale, tipicamente europeo non occidentale e che in realtà questa guerra che la Russia sta portando avanti non potrà che concluderci con il ritiro della Russia dai territori dell'Ucraina che ha occupato, sono valutazioni stupefacenti, tu come le interpreti? Sì Feng Jujun, diciamo la sua visione sulla Russia in tutti questi anni è sempre stata piuttosto coerente, quindi lo potremmo assolutamente definire un antiputiniano almeno volendo utilizzare gli schemi che si sono creati da noi, poi chiaramente trasportati in Cina questi schemi hanno tutta una valenza diversa, non sono pochi gli osservatori cinesi che guardano con una certa diffidenza la Russia anche a seguito delle varie vicissitudini storiche, la crisi sino-sovietica, il fatto che durante la guerra fredda siano finiti in guerra, seppure limitatamente, ma c'è stato uno scontro militare tra la Cina e la Russia e quindi oltre a Feng Jujun anche altri osservatori cinesi sono piuttosto distaccati rispetto alla Russia o comunque la guardano con diffidenza. E di Feng Jujun sì, ricordo che fin dall'inizio anche articoli che aveva scritto l'anno scorso in qualche modo erano piuttosto critici verso Putin, non sono mai arrivati all'Economist quindi non sono mai arrivati al dibattito in Occidente, mentre quest'ultimo articolo in cui parla di una sicura, di una certa sconflitta russa in Ucraina, secondo lui è una certezza ed elenca anche quattro motivi, sono motivi piuttosto poco convincenti, ricordano forse le cose che in Occidente dicevamo nel 2022 e che forse già abbiamo smesso di dire, l'idea che ad esempio la coordinazione all'interno dell'esercito russo non vada bene, che Putin viva in una bolla chiusa di informazioni, che quindi non abbia in qualche modo la visione reale di ciò che accade sul campo, mentre gli ucraini sì, tutta questa roba noi la dicevamo in qualche modo all'inizio, poi vedendo com'è andata la controoffensiva dell'ultimo anno, forse la ripetiamo un po' più sottovoce, se ancora alcuni la dicono, la dicono forse in maniera un po' meno certa, mentre Fedor Gigi se ne esce con questa certezza affidata all'Economist recentemente, Fedor Gigi secondo me è piuttosto competente nel parlare di Russia anche dal punto di vista storico, è sicuramente una persona che ha la sua competenza, per quanto riguarda il caso specifico della sconfitta russa, ma non lo so, magari intende qualcosa nel lungo periodo che potrebbe, lui la paragona ad esempio alla sconfitta americana in Afghanistan che è qualcosa che è avvenuto di fatto con un ritiro volontario dopo 20 anni in cui a un certo punto le risorse da spendere hanno troppe e allora si sono ritirati, però sono dinamiche molto differenti, la guerra in Afghanistan non era mai stata indicata come un conflitto esistenziale da parte degli Stati Uniti, mentre la Russia sì, quindi non mi convince, credo sia comunque interessante il suo parere per avere un tassello completo di ciò che in Cina si dice della Russia, è chiaro che ciò che dice Fedor Gigi non è evidentemente la forza trainante del governo cinese, perché è chiaro che si basa su altri principi e mette in atto altre politiche, però ciò non toglie che anche la Cina a volte ha mostrato una certa diffidenza nei confronti della Russia, pensiamo al Power of Siberia 2, questo gasdotto che mi pare che ancora non sia stato firmato, nonostante sia qualcosa di cui si parlava già di una possibile firma nell'incontro tra Xi Jinping e Putin a Mosca, qualcosa che è avvenuto già un anno fa anche di più, però non è avvenuto in quel momento, non è nemmeno avvenuto durante l'incontro dei paesi della via della seta che c'è stato poi nei mesi successivi e chissà che questa firma possa venire a maggio, perché se non sbaglio appunto nel mese di maggio Putin dovrebbe tornare a Pechino, quindi magari in quel momento lì si avrà, non si sa, certo è che la Russia o comunque Putin fa di questa firma una necessità importante, ma i cinesi mi pare di dire che stanno trattando parecchio su questa idea qua, quindi per quanto Fedor Gigi stia esprimendo un parere che è minoritario a livello politico in Cina, però ciò non vuol dire che non abbia comunque delle orecchie che lo ascoltano, mettiamola così, fa parte di un complesso puzzle che riguarda i rapporti tra Cina e Russia. Indubbiamente. Io Davide ti ringrazio molto per le tue riflessioni, ti andiamo a appuntamento per una prossima volta se avrai piacere, quindi ti saluto caramente e auguro a tutti una buona serata. Certo, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti. Grazie mille per l'invito e un saluto.